3 medaglie per l'Italia nella prima giornata dei giochi olimpici di Parigi 2024, questo l'ordine cronologico di come sono arrivati i successi dei nostri atleti. Prima l'argento di Filippo Ganna nella crono di ciclismo, poi il bronzo di Luigi Isamele nella scherma, infine il bronzo della staffetta azzurra 4% stile libero. Cominciamo con la medaglia d'argento centrata da Filippo Ganna, particolarmente sfortunato a Tocchio 2020 l'oro gli venne precluso dai percorsi in salita. Stavolta donna fuoriclasse come il belga Evenencolle che stacca l'italiano di 14 e 92, ma Super Ganna a distanza di oltre 10 secondi l'altro belga Van Arde che chiude sul gradino più basso del podio. Gran palè Luigi Isamele nella sfida per il bronzo batte l'egiziano Zeid El-Sissi 15 a 12. La medaglia di bronzo della staffetta 4% stile libero, l'Italia nuoto scende in un gradino in questa disciplina rispetto al passato ma resta comunque sul podio.